Un maxi sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni di euro è stato effettuato questa mattina dal nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila nei confronti delle imprese responsabili dei lavori per la realizzazione degli alloggi antisismici del progetto case di Ceseri Preturo, dove, lo ricorderete, nel settembre del 2014 un balcone in legno si staccò dal terzo al secondo piano a causa del materiale definito scadente e di difetti strutturali nelle costruzioni. La somma sequestrata equivale al valore dell'appalto vinto da Futura Aquila, società consortile ARL costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno dei 19 insediamenti abitativi antisismici realizzati dopo il terremoto del 2009 per sistemare oltre i 16 mila sfollati aquilani in circa 4.500 appartamenti. La misura cautelare eseguita oggi giunge al termine di complesse indagini di Polizia Giudiziaria coordinati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, Fausto Cardella, che da poco si è trasferito in altra sede, assieme al sostituto procuratore Roberta Davoglio e delegate al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, assieme al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale dello Stato. Il sequestro è una conseguenza dell'inchiesta della Procura della Repubblica scattata in seguito al crollo del balcone. Le lunghe indagini portate avanti dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Finanza hanno portato, nell'ottobre del 2015, ad iscrivere sul registro degli indagati ben 37 persone. Le indagini svolte hanno anche permesso di appurare che i materiali impiegati nell'edificazione dell'insediamento abitativo non erano conformi a norme e prescrizioni. I materiali, ossia gli elementi strutturali in pannello multistrato utilizzati dalla futura Aquila per realizzare i solai erano tra l'altro privi di collante che causava la riduzione di resistenza di tenuta nel tempo delle strutture. Durante le indagini gli inquirenti sono riusciti anche ad accertare che la società fornitrice del materiale alla futura Aquila aveva conseguito un mero attestato di origine che certificava la provenienza del materiale da uno stabilimento in Polonia, attestazione che, sebbene identificasse lo stabilimento di produzione, non certificava in alcun modo l'idoneità del materiale prodotto agli usi cui era destinato. Ciò, secondo l'accusa, avrebbe indotto in errore la presidenza del Consiglio dei Ministri circa il rispetto degli obblighi contrattuali, la corrispondenza dei materiali alle prescrizioni normative, l'idoneità allo scopo e alla funzione dei materiali forniti ed utilizzati per la realizzazione degli abitazioni, determinandola a derugare la somma di ben 18 milioni di euro a favore della futura Aquila che in tal modo si procuravano in giusto profitto, pari alla predetta somma in danno della pubblica amministrazione. Da qui sono arrivati i sequestri eseguiti questa mattina dalla finanzia degli asset aziendali di tre società, tutti hanno sede a Napoli, costituenti lati, denominata Futura Aquila. Le accuse sono di crollo di costruzioni e altri disastri dolosi, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale, truffa aggravata ai danni dello Stato e frodi in pubbliche forniture.